Oggi vi presentiamo la nostra azienda, Servizi Sanitari Alcamesi, è un'azienda che nasce nel 1986, quindi un'azienda che ha ormai più di 30 anni alle sue spalle e nasce con un core business assolutamente ben definito, ben delineato. Operiamo nel mondo della sanità e nello specifico da sempre nel mondo della nefrologia e della dialisi. Da ormai alcuni anni abbiamo ampliato il raggio della nostra azione ad altre specialistiche ambulatoriali, così l'azienda via via si è trasformata, ha ampliato l'offerta delle proprie specialistiche, ci siamo trasformati in poliambulatorio centro dialisi e così abbiamo iniziato a coinvolgere, aggregare molti specialisti, molti medici, leader ognuno nella propria professione che hanno deciso di in qualche modo lavorare insieme a noi nel nostro territorio. La nostra è un'azienda che ha due sedi oggi, una ad Alcamo dove ha la sua sede legale, la sua principale sede e un'altra che abbiamo aperto da poco, una piccola succursale a Trapani, ad Alcamo ci trovate in corso 6 aprile 184 mentre a Trapani via Vespri numero 60. Cosa offre la nostra azienda? Dicevamo innanzitutto la dialisi che è convenzionata con il servizio sanitario regionale ma quello che poi oggi rappresenta un po' la maggiore offerta è rappresentata dalle specialistiche. Le specialistiche più importanti che noi oggi offriamo sotto forma di ambulatorio privato sono rappresentate dalla cardiologia, dalla ginecologia, dall'ostetricia, dalla diagnosi prenatale che noi effettuiamo ovviamente in sede sia a Trapani che ad Alcamo. È rappresentata da alcuni specialisti che si occupano di biologia della nutrizione sia a Trapani che ad Alcamo. Abbiamo una serie di chirurghi estetici che vengono da Palermo e che operano in termini di visite ambulatoriali specialistiche sia a Trapani che ad Alcamo. A breve nel giro di un mese attiveremo anche altre specialistiche ambulatoriali come per esempio la pneumologia, la fisiatria, attiveremo anche la possibilità di poter usufruire di un oncologo che verrà da Palermo per visite specialistiche. Insomma la nostra è un'azienda in grande espansione. Abbiamo anche avviato una serie di investimenti proprio per ampliare anche i nostri locali. Il nostro obiettivo principale è quello di offrire ai pazienti, persone che entrano nella nostra azienda, il maggior numero di servizi possibili. Chi entra qui deve poter usufruire nello stesso luogo di tutte le specialistiche che possono essere utili ed è anche per questo motivo che cerchiamo di coccolare un po' i nostri clienti, i nostri pazienti offrendo loro un trend di altissima qualità. Considerato tra l'altro che la nostra è un'azienda certificata da un paziente. Noi tendiamo assolutamente a mettere al centro della nostra attività imprenditoriale il paziente. Per cui qui troverete ovviamente un clima assolutamente familiare e troverete servizi di altissimo livello.